Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri I titoli di questa edizione del telegiornale Nuovo record di contagi nelle Marche Più di mille i positivi Acquaroli firma l'ordinanza Ancone e Macerata in zona rossa Restano in arancione Invece le province di Pesaro e Urbino Fermo e Ascoli Gli studenti delle medie e delle superiori In didattica a distanza già da domani Trovato l'accordo in regione con i medici di base Per la vaccinazione degli over 80 Potranno vaccinare a domicilio oppure in ambulatorio Incidente stradale sulla Monte Labattese Ferito un giovane di 23 anni 8 marzo, donne, musica, arte e territorio Il video nato dall'idea del comune di Colli al Metauro E in onda in prima serata su Fano TV Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Questa è Occhio alla Notizia Il telegiornale lo avete sentito dal nostro sommario Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato poco fa L'ordinanza che pone in zona rossa anche la provincia La città di Macerata Insieme a quella di Ancona Per tutti gli studenti già da domani Delle primarie delle scuole medie e superiori Ci sarà la didattica a distanza Letizia Marchioni Firmata nel pomeriggio dal presidente della regione Marche L'ordinanza che alla luce dell'analisi Dell'andamento epidemiologico effettuata con il servizio sanità Stabilisce i nuovi provvedimenti in vigore fino al 14 marzo L'annuncio è arrivato ieri in tarda serata Da parte dello stesso Acquaroli Che in un post diffuso sui social Ha descritto le principali misure restrittive Valutate considerando anche le nuove regole Introdotte dal DPCM Che entrerà in vigore dal 6 marzo Si allarga la macchia rossa all'interno della regione Secondo quanto stabilito dall'ordinanza di Acquaroli A partire da domani, sabato 6 marzo Le province di Ancona e Macerata Saranno in zona rossa Il che prevede, tra le altre misure La didattica a distanza per tutte le scuole Di ogni ordine e grado, comprese le università Le altre province di Pesore Urbino Fermo e Ascoli Piceno Restano invece in zona arancione Con la chiusura ed ad al 100% Delle scuole secondarie di primo grado E di secondo grado Ovvero medie e superiori e delle università Resta garantita la possibilità Di svolgere attività in presenza Per i laboratori, gli studenti con disabilità E con bisogni educativi speciali Questo provvedimento, ha scritto Acquaroli È necessario per la salvaguardia della salute E della sicurezza dei cittadini marchigiani Per la tenuta delle strutture sanitarie E soprattutto per cercare di scongiurare Scenari peggiori Nessuna decisione, ha continuato il presidente Viene presa a cuor leggero Chiudere le scuole o adottare zone rosse Sono scelte dolorose Ma di responsabilità Sostenute da analisi tecniche E da dati epidemiologici Che ci dicono che è giusto intervenire Siamo pronti ad affrontare la didattica a distanza al 100% Lo affermano le dirigenti Monica Dalmonte e Eleonora Augello Sull'ordinanza firmata dal presidente Acquaroli Filippo Pucci L'ordinanza firmata dal presidente Acquaroli Stabilisce la didattica a distanza al 100% Anche per le scuole medie in zona arancione Visto l'andamento della curva epidemiologica Ha commentato Monica Dalmonte Dirigente dell'istituto comprensivo Nuti di Fano Ci aspettavamo un simile provvedimento E ci siamo fatti trovare pronti Ci stiamo organizzando per garantire a tutti quanti La didattica a distanza Aggiunto poi Domenico Somma Direttore amministrativo dell'istituto Rendendo disponibili dei computer scolastici Acquistati durante il lockdown dello scorso anno Per i ragazzi che ne hanno bisogno Al momento sono sette le persone che hanno fatto domanda Noi speravamo di non arrivare a questo punto Perché riteniamo che la scuola in presenza sia la vera scuola Dall'inizio dell'anno abbiamo iniziato già a preparare gli studenti a questo Abbiamo fatto proprio delle lezioni adatte Per far sì che i ragazzini Una volta che si trovassero a casa di fronte a un computer Sapessero come entrare nell'ambiente virtuale In cui sarebbero poi andati a svolgere la didattica a distanza Abbiamo un'organizzazione proprio anche di come fare la didattica a distanza Questi provvedimenti che arrivano Anche un po' all'ultimo momento Che magari sono circoscritti nel tempo E uno dice ma come io faccio appena in tempo Organizzarmi e poi devo organizzarmi in un altro modo Però se la finalità è di portare e riportare Il prima possibile i studenti in classe Benvenga assolutamente Sarà un po' di fatica ma lo facciamo volentieri Perché averli a scuola è tutta un'altra cosa Per le scuole superiori invece la didattica a distanza al 100% Era già stata attivata dalla scorsa settimana Per noi, ha spiegato la dirigente del Polo 3 Eleonora Ugello L'ordinanza significa un prolungamento della DAD Abbiamo adattato la finalità degli obiettivi Facendo emergere ancora di più Quelli legati al sostegno ai ragazzi Per non lasciarli soli in questo momento buio Uno strumento che ci ha consentito di affrontare la pandemia Ma non per questo è sicuramente una situazione ideale Per i ragazzi E non solo dal punto di vista didattico Quello che mi preoccupa di più Chiaramente invece è la sfera relazionale Che i ragazzi perdono E che con il passare del tempo Comincia a farsi sentire sempre più pesante Con situazioni di disagio È tutto più difficile È tutto più amplificato Ma a maggior ragione non ci possiamo arrendere adesso Dobbiamo essere più forti di prima E cercare di stare vicino Quanto più possibile ai ragazzi e alle loro famiglie È chiaro che tutti quanti I ragazzi in primo luogo Hanno proprio desiderio di ritornare a scuola Che si registra in maniera importante e forte Mai come in questo periodo Io penso che la voglia di scuola Dei ragazzi non sia stata mai forte Nella storia proprio della scuola Come in questo momento Restiamo sempre in tema scolastico In ambiente scolastico Però ci spostiamo a Pesaro Dove tra file chilometriche Lunghe attese Proseguono gli screening Nelle scuole medie e superiori Oggi Angelica Panzieri Per noi ha raccolto i pareri Dei pesaresi Mentre il presidente regionale Francesco Acquaroli Firma l'ordinanza Per chiudere da domani Anche nella provincia di Pesaro Urbino Le scuole medie e superiori Qui a Pesaro Continua lo screening Rivolto ai ragazzi delle medie e superiori Oggi pomeriggio Al campus scolastico C'è stata una grandissima affluenza Siamo andati a sentire I docenti e ragazzi Che hanno partecipato Una cosa importante Soprattutto tenere Sotto osservazione Comunque la situazione Data l'aumento dei casi E niente Abbiamo reputato Che è data l'opportunità Della scuola Quanta attesa? C'è molta fila? Eh siamo arrivati A dieci minuti dalle due Ancora devono aprire Però vabbè Aspettiamo È per una buona causa Ma sono in fila Da tre quarti d'ora circa E' importante Chiaramente Per essere sicuri Per continuare la scuola In presenza Quindi Sia per noi stessi Sia per tutte le persone Che ci secondano Tra l'altro oggi Il governatore Acquaroli Firmerà l'ordinanza Da domani si torna in Daz Sì Sì È giusto Usare tutte le misure Cautelative È tutto giusto È difficile Organizzarsi Come vede La fila è troppo lunga Immagino che chi è in fondo Dovrà stare parecchio Il motivo è evidente Più ci controlliamo Più siamo tutti Diciamo Sicuri di come stiamo noi Ma anche di come Facciamo stare gli altri Che sono con noi Quindi Più di così E anzi Grazie per questa cosa Adesso chiunque abbia Insomma Potuto anche farla realizzare Grazie anche alle persone Che hanno dato il contributo Proprio di volontariato Perché qui C'è anche un bel aiuto In questo senso Lei accompagna suo figlio A fare il tampone Diciamo perché ha deciso Che doveva farlo Sì Perché ritengo Che comunque sia una cosa utile Anche per stare Non tranquilli Però diciamo Parzialmente tranquilli Che per il momento Almeno Non c'è Poi il virus Intendo Un'attività di prevenzione Importante Anche se da domani Le scuole Tornano in DAD Ho sentito Ho sentito la notizia Purtroppo Però Sì Non so Io Non so cosa dire A riguardo Nel senso che capisco Le difficoltà Però è anche vero Che le ultime varianti Diciamo così Rispetto alla prima ondata Attaccano molto di più giovani Addirittura anche i bambini Le ultime Che sono poi quelli Che fondamentalmente Non hanno nemmeno L'obbligo della mascherina Le elementari E quindi non dobbiamo Veramente abbassare la guardia Ho deciso di aderire All'iniziativa dei tamponi Per la mia famiglia Soprattutto E Penso che sia Un gesto di responsabilità Nei confronti dei propri compagni di classe Della società Insomma Voi studenti delle superiori Eravate già in didattica a distanza Come sta andando? La didattica a distanza Funziona Non credo possa sostituire La scuola in presenza Però Insomma funziona È molto Trista Come cosa Hai fatto il tampone Come è andata? È andata bene Era la seconda volta Lo facevo L'avevo già fatto Perciò Bene Sono contento È andata bene Questa era la quarta volta Che lo facevo Quindi Ormai ci sono abituata Il motivo per cui Hai deciso di farlo? Per sicurezza Perché almeno Ho avuto un caso in famiglia Quindi Volevo evitare Di stare di nuovo Ma un'altra volta Quindi Per sicurezza Meglio che tutti lo facciamo E c'è un aggiornamento Su questa notizia Degli screening Nelle scuole pesaresi Una dichiarazione Che riguarda Ricci Il sindaco Che ha fortemente voluto Gli screening Antigenici Appunto Tra gli studenti E gli insegnanti Perché? Perché oggi Matteo Ricci Ha detto Che è una decisione Sbagliata Quella di chiudere Le scuole Medie Anche in provincia Di Pesaro E Urbino E cita dei numeri I numeri sono questi Su 1713 Tamponi effettuati Alle medie Quattro ragazzi Sono risultati positivi Un dato importante Che dimostra Quanto sia importante Lo screening Da un lato Impedisce i positivi Di contagiarne altri Di contagiare altre persone Dall'altra Ci fornisce Una fotografia Della scuola Ad oggi Sicura Dice Matteo Ricci Dunque La scelta Di chiudere Le scuole medie Anche nella nostra provincia È sbagliata Secondo il sindaco Ricci Che aggiunge Oggi Ne ho parlato Con il presidente Acquaroli Presentandogli I dati Del monitoraggio E poi continua Con altre dichiarazioni Che troverete Sul nostro sito Internet Occhio Allanotizia Punto it Intanto C'è l'aggiornamento Consueto All'interno Del nostro Telegiornale Dell'andamento Del covid In tutta la regione E continua Purtroppo A salire Il numero Dei contagi Nelle marche Oggi un vero e proprio record Nelle ultime 24 ore I positivi registrati Sono 1027 Un numero che batte Appunto il record registrato ieri In testa resta Ancona Con 346 nuovi casi Seguite da Macerata Con 257 A Pesaro e Urbino I positivi sono 228 I decessi legati al coronavirus Invece sono 11 Tra le vittime c'è anche un 99enne Residente a Gabicce Mare In aumento i ricoveri Negli ospedali delle Marche Che sono 18 in più Rispetto a ieri Per un totale di 685 92 invece i pazienti In terapia intensiva 171 I degenti in semi-intensiva Ed è stato raggiunto E qui parliamo di vaccini L'accordo con i medici di famiglia I medici di base Che dunque daranno così Manforte alla Regione Nella somministrazione del vaccino Anti-Covid Soprattutto agli over 80 Soprattutto gli over 80 Che sono impossibilitati A raggiungere i punti vaccinali Angelica Panzieri Saranno indispensabili Per vaccinare Gli over 80 E i soggetti più fragili Ora è sicuro Ad Armanforte Alla Regione Marche Ci saranno anche I medici di base Con i quali è stato Finalmente raggiunto Un accordo A livello locale Per la vaccinazione Anti-Covid Dei pazienti di età O superiore ad 80 anni Impossibilitati A lasciare il proprio domicilio Gli elenchi degli stessi Verranno inviati Ai singoli medici Di famiglia Che verificheranno Le condizioni cliniche Per un eventuale Accesso domiciliare Per vaccinare Nel proprio studio O in una sede Distrettuale Poi in base Alla disponibilità Di vaccini I medici di base Potranno intercettare Anche i cittadini Delle altre fasce d'età Intanto sono partite Le vaccinazioni Anche per i soggetti Estremamente vulnerabili Già presi in carico Dalle varie strutture Sanitarie e regionali In questo caso Non è necessaria La prenotazione I soggetti Verranno contattati Direttamente dai servizi E vaccinati Nelle strutture Asur Ieri l'assessore regionale Filippo Saltamartini In un post su Facebook Ha cercato di rispondere Alle numerose domande Arrivate dalla cittadinanza Dopo aver illustrato La classifica ufficiale Sulle vaccinazioni Ha precisato Gli over 80 Verranno vaccinati A domicilio Dai medici Di medicina generale Dal personale Dei distretti E dalle adi In questo momento Non ci sono I vaccini a disposizione Dai prossimi giorni Si inizierà Con gradualità Secondo le disponibilità Non è possibile Stabilire oggi Il giorno e il mese Perché non sappiamo Quale sarà La fornitura Di questi farmaci Per aprile e maggio E ancora Finora abbiamo vaccinato 30.000 Over 80 Su 133.000 Dobbiamo esaurire La copertura Per chi precede In questa classifica Poi passeremo Alle persone più fragili Con patologie Sul numero verde 800 936 677 Disponibile Per la prenotazione Ho invitato Alcuni cittadini A rivolgersi qui Specifica Salta Martini In questi giorni Il servizio Verrà rinforzato Ricordo Che molte informazioni Dipendono Dall'evoluzione Della situazione Della fornitura Dei vaccini Solo alcune richieste Possono essere soddisfatte Se l'Italia Avessi intrapreso La strada Della produzione Probabilmente Non saremmo A questo punto In calza L'assessore Che ancora Sulla prenotazione Per docenti E professori Universitari Dai 65 A 70 anni Ricorda Questo personale Deve essere vaccinato Con Pfizer Moderna E segue il target Degli ultraottantenni E quello Dei fragili E' impossibile Stabilire adesso Quando verranno vaccinati Perché dipende Della fornitura Perché dipende dalla fornitura Poi i dipendenti pubblici Tutto il personale Dei servizi pubblici Deve essere vaccinato Con AstraZeneca Sulla base Delle forniture Come detto Questo obiettivo Risulta davvero prossimo Ha concluso Saltamartini E adesso la cronaca Un 23enne Rimasto ferito In un incidente Avvenuto oggi Intorno alle 16.30 All'altezza Della zona industriale Di Villa Fastigi A Pesaro Sulla Monte Labattese Il ragazzo A bordo di una BMW Avrebbe perso Il controllo Della sua auto Per motivi Ancora in fase Di accertamento La vettura È caduta nel fossato Che fiancheggia La carreggiata Il giovane È stato trasportato In pronto soccorso Dai sanitari Del 118 Per gli accertamenti E le cure Del caso Sul posto Oltre ai vigili del fuoco La polizia locale Per i rilievi Di legge 8 marzo Donne, musica Arte E territorio È il video Nato dall'idea Del comune Di Colli Al Metauro E in onda In prima serata Su Fano TV Dove vede protagonista Appunto La figura femminile Filippo Pucci Un video speciale Che vede protagonista La figura femminile Nei diversi aspetti E settori della società Come la musica L'arte E la scienza È l'idea Nata dal comune Di Colli Al Metauro In occasione Della giornata Internazionale Contro la violenza Sulle donne Il filmato Realizzato dall'emittente Televisiva Fano TV Andrà in onda Sul canale 17 Lunedì 8 marzo Alle ore 21 E sui canali social Questo video Parla delle donne Le donne che si sono Distinte nel nostro territorio Ma ci aspettiamo Che possa essere anche Un messaggio Per tutte le donne Che sia in grado Di spronarle Per cercare Di promuovere La partecipazione Attiva delle stesse Per migliorare La società civile In cui vivono E il territorio Che abitano Nello specifico Possiamo trovare Donne giovani E anche meno giovani Che hanno fatto Che si sono appassionate All'arte Sì per farla diventare Quella che è La loro attività fondamentale Quindi l'attività lavorativa Ma anche donne Che nel loro tempo libero Si impegnano E coltivano Le loro passioni Quindi ci saranno Interventi Di teatro Quindi donne Che recitano E fanno La loro attività teatrale E pittura Ma anche laboratori Artigianali E artistici Del nostro territorio Il video Dal titolo 8 marzo Donne Arte E territorio È stato girato Nella cornice Del museo del Bali E vedrà un alternarsi Di immagini girate Negli spazi Di questa storica struttura E nei vari borghi Caratteristici Del comune Di Coglie al Metauro Quindi vi invitiamo Lunedì 8 marzo Dopo il TG Su Fano TV Per il nostro speciale Con il nostro messaggio Delle donne E per le donne E continuiamo a parlare Della festa Della donna Perché partirà L'8 marzo La rassegna D'arte Cultura Che titola Impronte Impronte femminili Curata dall'assessorato Alle pari opportunità Del comune di Fano Letizia Marchioni Abbattere gli stereotipi E gli schemi Che creano disparità Tramite la cultura È l'obiettivo Della rassegna D'arte Cultura e narrativa Per le pari opportunità Ed i diritti umani Che titola Impronte femminili L'iniziativa Curata dall'assessorato Alle pari opportunità Di Fano Che giunge quest'anno Alla sua quarta edizione Realizzato in collaborazione Con altri 13 comuni Sparsi per la provincia Di Pesaro e Urbino Di cui la città Della fortuna È capofila Il progetto È stato sostenuto Sin dalla sua nascita Dalla commissione Pari opportunità Della regione Marche E quest'anno Si svolgerà Nella duplice veste Di appuntamenti online Ed in presenza Il primo dei 23 incontri In programma Sarà l'8 marzo E sarà possibile Seguirlo alle ore 18 In diretta streaming Sulle pagine Facebook e Youtube Sia del comune di Fano Che di impronte femminili La ricerca di quest'anno È una ricerca Che si occupa Comunque di Pari opportunità Diritti E diritti ambientali L'attenzione Nei confronti Dei diritti umani E diritti dell'ambiente Che hanno la stessa matrice Ad aprire I 23 appuntamenti Che è quello Con Loredana Lipperini E Lucia Tancredi Due scrittrici Loredana Lipperini E anche una giornalista Molto nota Che affronteranno Il tema della figura femminile Nella storia Nell'archetipo Legato al tema di quest'anno Quindi al concetto Di ecologia integrale Gli appuntamenti Che spazieranno Da approfondimenti Di tipo culturale Con presentazioni Di libri E conferenze A laboratori Per i più piccoli Momenti musicali E tanto altro Hanno l'obiettivo Di occuparsi Di una vera cultura Per le pari opportunità Come testimonia Anche il manifesto Scelto per questa edizione Di impronte femminili Intitolato Piccolo Drago E realizzato Dall'illustratrice Mara Cerri La ragazzina del manifesto È in ascolto Della terra Che è una terra però Non orizzontale Ma verticale Come fosse un ventre E c'è un piccolo germoglio Un piccolo germoglio Che le suggerisce qualcosa Probabilmente una possibilità E il titolo stesso Della rassegna Ha delle iniziali particolari Una I Una F Un IF Che possono anche introdurci A una possibilità Quindi Il piccolo drago Che è il nome di questo germoglio Se vogliamo Lo ricordo anche un po' formalmente Ci introduce A una possibilità A qualcosa Che è in potenza di essere Può sembrare banale Che negli anni 2000 Si facciano determinate cose Invece c'è grande bisogno Lo vediamo sia nei paesi più ricchi Sia nei paesi più poveri Dove Gli stereotipi Dove l'arroganza Il rispetto E la violenza La fanno spesso da padrone Allora l'arma più forte È la cultura La cultura Ti aiuta a combattere L'ignoranza E la violenza Con i suoi linguaggi Con le sue riflessioni Con i suoi approfondimenti Ecco Allora iniziative come queste Ci aiutano A scoprire A comprendere E a crescere E a combattere L'ignoranza Cadono le lapidi Un bel appuntamento Un bel appuntamento Con esplorare i confini Da Tolomeo Ai buchi neri Con il professor Filippo Martelli Si parlerà di Onde gravitazionali È tutto Grazie per averci seguito Ci vediamo domani mattina Alle sette Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti